Uomini della Guardia Costiera, a bordo di tre motovedette, hanno spento un incendio di vampato nella sala macchina del traghetto Lera Petraelle, battente bandiera greca, senza passeggeri e con 23 uomini di equipaggio. La nave era in navigazione verso Igumenizza, quando a circa 25 miglia da Brindisi ha chiesto aiuto perché il personale di bordo non riusciva a domare le fiamme. Sul posto sono giunti anche un rimorchiatore e tre mercantili. Il traghetto è giunto a destinazione all'alba. La nave era partita dal porto di Brindisi, dove era rimasta ferma per circa un mese ed era diretta di Igumenizza per altri lavori di manutenzione. Un incendio è divampato in sala macchine ed è stato subito spento dall'equipaggio, composto da 23 persone. Non c'erano passeggeri a bordo dell'imbarcazione, destinata ad essere impiegata sulla tratta Bari-Durazzo. Immediata la segnalazione al Pireo, come da procedure, è considerato che la nave batte bandiera greca, da dove l'allarme è stato girato alle autorità italiane. Sono state allertate le capitanerie di porto di Brindisi, Otranto e Gallipoli, che hanno inviato in area tre motovedette della Guardia Costiera. Alle 22.25 il rogo in sala macchine è stato domato con l'impiego dei sistemi antincendio di bordo. La nave Lera Petraelle si trovava a 25 miglia dal porto di Brindisi, ma già in acque internazionali.